Tentando di ritrovare il Titanic, due uomini, due topi, un cane si ritrovano da prima bloccati sul fondo marino, dopodiché ospiti prigionieri ad Atlantide. E' tutto, credo. Sì, grosso modo. Proseguiamo. Che spavento! Ma quello... Ma il bevino! Sì, è sotto acidi, però. Hanno preso un'icona della Disney e l'hanno trasformato in un incubo. Vi dichiaro ufficialmente nuovi abitanti di Atlantide! Evviva! Ma è ridicolo, dai! Motivo del suo viaggio? Passerà solo di passaggio, vado a trovare un amico. Non più, ora lei è un cittadino di vergate. Si cerchi un lavoro e un posto dove vivere. Ma cosa è che... Certo che no, ho già una casa e un lavoro. In subordinazione? Bene. Guardie! E siete fortunati assai, d'ora in poi non avrete più guai! Che è successo alla sua voce? Personalità multiple? Dovrei analizzarlo più a fondo. Che possa cambiare la sua voce a comando o meno, lo odio comunque. Se dico che ad Atlantis qua, giorno e notte lo spasso ti dà! Ma cos'è quel rumore? Colpi di martello. E cosa sarebbe? Musica sperimentale? No, capita, quando registri, mentre gli operai devono sistemare il tetto. E non potevamo aspettare la fine dei lavori. Avevamo prenotato la sala per quelle due ore. Non è stato facile andare a tempo, non rompere. L'acqua è bella fresca se tu vuoi nuotare. Ed in pescioteca poi si va a ballare. In pescioteca? Dunque ad Atlantide vivono solo giocattoli, ma che senso ha? Non hai compreso l'aspetto più inquietante della vicenda? Che il pescion solo mo' sareste un cyborg? No, che probabilmente hanno scambiato i protagonisti per Balocchi. Lassù? Non tornerete più? Una preson? Ma è un horror! Beh, esteticamente di sicuro. Trova proprio vino sotto acidi e il pesce a molla. No maestà, anzi, per noi è stato meglio sapere subito la situazione. Devo riconoscere che il suo consigliere lo ha fatto in un modo divertente e originale. Ma che significa? Non è che se cambi il tono la notizia migliora. Allora dottore, come sono andati gli esami? Eh, temo non ci siano buone notizie. Cosa? Come posso dirglielo, vediamo. Il cuore funge bene, il fegato anche bello, purtroppo due le dirle a un cancro nel cervello. Beh, almeno il gingolino non era male. Quando ero piccolo avevo un cane che spariva anche per giorni, ogni volta che dovevo fargli il bagno. Spargli il bagno, vivete sott'acqua. Come si invaginesse il bagno sott'acqua? Non si fa, punto. Ci credo che spariva per giorni, chissà cosa gli combinavano. Bene, qualcuno ha già trovato interessi per rimanere. La morte era in cretinissima. A volte. Aspetta, sono dipinti come cattivi, ma vorrebbero solo andarsene da Atlantide. Chissene, il punto è che andarsene dovrebbe essere il legittimo, sacro santo, non una scelta da malvagi. Cosa state aspettando? Salite! Quel topo pirata è un genio della meccanica e dell'elettronica. Come diavolo ha fatto a costruire quell'affare? Ma è una lottina, non ha neanche le vuote. Magari si gireresse sull'auto e faresse lei la ruota. Beh, sai il vomito poi. Quelcoso fluttua. Certo, i topi di Atlantide nel 1915 erano tecnologicamente più avanti rispetto a noi oggi. Oddio, lo sta mozzicando! Credo siano baci. Non dive scemenza, i cani baciano usando la lingua. Come i franciunzi. Parola d'ordine! Topi al potere! Giusto! Ma chi è? Crapanzano versione sorcio? Pupanzano! Me ricuerda un viejo socio. E quelli che sono? Sono i nuovi arrivati. Il capo ha detto che tutti i topi devono essere presenti, bestione. Dunque a che serve la parola d'ordine? Come? Se tutti i topi devono essere presenti, che senso ha concordare una parola d'ordine per entrare? Eeeh, politica dei ratti. Ma che ne so io? Noi qui siamo dei prigionieri. E come tutti i prigionieri abbiamo il diritto di fuggire. Questa è nuova. Cioè, ora evadere è un diritto. Non vedo nada che è sbagliato. Non diciamo idiozie, è come... Ma perché? Beh, ho una pistola, avrò il diritto di usarla su chi voglio. Il piano dei topi è quello di mettere le mani sulle scorte di Elisir di lunga vita, raggiungere la superficie e... Vivere a lungo? No. Conquistare il mondo. In che modo, scusa? Non lo spiega, ma a quanto pare è tipico dei topi desiderare di sottomettere l'umanità. Quello che facciamo tutte le serie è miglioro. Tentare di conquistare il mondo. Andremo immediatamente a riferire tutto quello che abbiamo saputo. Parleremo con il re e con i suoi consiglieri. Che canaia, questa schienza vergogna. Sì, per essere dei topi sono abbastanza riconoscenti. Insomma, a loro basta poco. Hablau de los protagonistes, amigos de las guardias. Ho deciso che asseconderemo i ribelli in tutto e per tutto. Ed è questo quello che faremo. Oh, devo essere un demente. Asseconderemo i ribelli. Forse vuole limitare eventuali danni. Sono topi. I ribelli sono topi. Eh, ma alcuni se ne siano grosserrini. Come topanzano. Dobbiamo prepararci alla battaglia. Non ci resta che vincerla, allora. Ripeto, dovete combattere contro dei topi. Sì, ma con le lattino onzole fruttanti. Questi atlantidei non sembrano molto preparati. Sostituiremo l'ampolla dell'elisir con una falsa, piena d'acqua. Mi raccomando, non fatevi scoprire. Sei scaltro come una faina. Il trappolone. Eh, sì, ma non ho capito se vogliono impedire o meno l'evasione dei sorci. In ogni caso, i ratte hanno ragione. Ma se sono tra i cattivi. Ci rifletta. Tutti i topi di atlantide vogliono fuggire. Un chiaro segnale del fatto che qualcosa d'atlantide non funzioni. Oh, magari c'è della discriminazione. L'appuntamento è al cimitero delle navi tra un'ora. Denti di ghiaccio ci scorterà sino alla superficie. No, un attimo. Cosa c'è adesso? Ma come escono da Atlantide? Beh, prendono e ce ne vanno. Ma se gli atlantidei non permettono a nessuno di abbandonare la città? Eh, sì, ma sono dei pacifisti. Se insisti, ti lasciano andare. Questa sceneggiatura fa schifo. Prova tu a scrivere un film per bambini. E stanno rubando l'Elysir? Così pare. Tutto qui? Donde sta la misilanzia? Atlantide sta attraversando un periodo di crisi. Il re ha perpetrato diversi tagli quella. Stavate rubando l'Elysir? Non ci riuscirete. Vedremo. Ti prego, topirata, infilzalo malissimo. Topivata? Che c'è? Paul può inventarsi i nomi e io no. E comunque sarebbe pirato. Frega niente, basta che il pesce giocattolo finisca male. Ma che spada è? Ma di che è fatta? Di marzapane. Vai risparmiare sull'armamentario. Quindi il colpo è riuscito? Calma, ricorda che hanno sostituito l'Elysir con una brocca piena d'acqua. A tal proposito, come fanno a non disperdere il contenuto della brocca? Non v'è alcun tappo. Ad Atlantide ci sono altre regole della fisica, suppongo. E ora che cosa facciamo, vostra maestà? Li inseguiremo e combatteremo. Allora perché scambiare le brocche? Bastava andare nel covo dei ratti. Non ci sto capendo più niente. Capisci? Non so come dichiararmi. L'amo, ma sono troppo timido. Ti aiuto io. Creerò un diversivo tanto fuoco ai bidoni dell'immondizia. Come? Non credo di aver... Quindi chiederò a due amici di iniziare una rissa nel bar di fronte e per stare sul sicuro farò una telefonata a scherzo al sindaco. E tutto questo dovrebbe essere d'aiuto? Lasciate guidare dal caos. Smile, che sorpresa! Ciao tentacolino! Certo che appare davvero poco per essere quello che dà il titolo al film. Che bagnaccionino! Aspetti, vogliono avventarsi su dei topi sfruttando la potenza di una piovra gigante? Sì, conta che i sorci sono alleati con gli squali. Va bene, ma non è esagerata come risposta? Grandioso! Sono tornate le formiche in cucina. Eh, come tutti gli anni, ma stavolta abbiamo la dinamite. Sì, meglio fermarle prima... Aspetta, cosa? Trope nemiche sono qua! Proviamoci! Oh no, gli stone troopers! Sbaglierò, ma credo che ad Atlantide non abbiano un poligono di tiro. Non ci avressero il lancio del disco, vinci! Stupido due volte. Il cerchio non è un poligono. Signor barone! È giunto il momento di usare la sua arma segreta. Siamo attaccati da un esercito di uomini e donne pesce. Preparatisi, Luri! I nostri alleati squali sono sotto attacco! Gli squali generali? Affermativo! Dobbiamo permettere ai topi di Atlantide di arrivare in superficie o sarà stato tutto vano! Ha di nuovo smesso di prendere gli psicofarmaci, vero? Cosa sono questi vaneggiamenti? Uomini e donne pesce? Topi di Atlantide? Che cosa diavolo hai scritto? Geoffrey, ti sei ubriacato? Ma lo sa che sono le parole di uno squalo parlante, vero? Regola maggiore importante per gli affari. Evita sossi sempre strafati. Un barone che collabora con squali e topi. Nemmeno è colpa sua. All'epoca la medicina faticava a distinguere i pazzi dai sani di mente. Un po' più a destra! Prendi meglio la mia! Hanno dato una pistola al cane! Eh, salì, sei uno sniper calling! Mi chiedo più che altro come faccio a tenerla in mano, ma vabbè. Sua maestà ha dato l'ordine tassativo di non colpire nessuno. Sta tranquillo, me lo ricordo perfettamente. Ma che cazzo stai dicendo? Come sarebbe a dire che che razza di piano è? Non vorranno traumatizzare i bambini, ma lo fanno lo stesso indirettamente seguendo altre vie. Quindi, infiltra due elementi e scambia la bocca, lascia scappare i topi e gli spava dietro senza colpirli. Il re di Atlantide è il peggior stratega militare di sempre. Se escludiamo il generale Pazzerstofen, certo. Il nemico è in posizione, generale. Ottimo! Circondatele con una banda di moto di piste punk armati di fruste e catene! Ma, generale, i nostri avversari hanno armi da fuoco? Silenzio! In Kenshiro funziona, giusto? Beh, non mi pare, anzi... Dannazione! Piano B! Sganciate le teglie di lasagne avvelenate! Il re lo sa che le armi dei giocattoli non funzionano, vero? E invece, se mi ria gli occhi, non so, li fanno malerrimo. Probabilmente quegli schioppi nemmeno sparano. Come ti chiami, bambina? Mi chiamo Brumali, maestà, ma io non sono una bambina. Io... Una spiegazione ce l'avrei. Ti voglio bene, mamma! Per tutti i sargassi, abbracciami! Non ci siamo, Crostolo! Ricorda, è la voce di una bambola, non riesci a essere più... Ehm... Femminile! Ci sto provando, l'uridolatto di Santina! Mia sorella parla così! Buon Dio! Ma che famiglia di squinternati è? Sono conciate in questo modo perché sono finito... Nelle mani di una bambina che, vedendomi con il gonnellino, mi ha messo anche la parrucca. Perché hanno regalato a una bambina un giocattolo rappresentante un soldato scozzese? Barbie Braveheart! Barbie Braveheart? No, non la comprerei. Oh mio Dio! Vevo, se si può toglierve la pavuca perché non l'ha fatto prima? Non mi riferisco a quello. Allora è stupito dalla fisica completamente inesatta della... Nemmeno quelli sono sottomarini del barone. A me sembrassero sottomarini. Lì dentro ci sono delle persone, evitano di ferire squali e topi ma non si fanno scrupoli nei confronti degli umani. Bene, questo sì che è traumatico per i bambini. Artigliere, ti comunico che sei appena diventato generale. Solo perché ha piccato un bersaglio? Hanno standard bassi ad Atlantide. Fai presto ad avanzare di grado, eh? Eh, no, la Cornamusa dovrebbe rimpirsi d'acqua. Non funziona proprio così. Piantalo da fermarti ogni 10 secondos, cavron. Non è colpa mia, è il film a fare pietà. Visto? Ci sono delle persone là dentro. E stanno colovando gli abissi di Rosso. Sì! Ma che festeggi è agghiacciante. Effettivamente non ho capito Cosa sarebbevo quei silubi spavascosse Stai chiedendo alla persona sbagliata spiacente Jeffrey ricordi che cosa stavamo facendo Ah si le stavo servendo il tè No creo Perché sei così sospettoso? Jeffrey non è svestito e il barone si Magari stavessi servendo il tè in mutandozzi Beh che ne è stato del non colpiamoli? Sarà un'altra fase del piano del V Ma non è successo nulla per giustificare il passaggio da quella precedente Ritiriamoci Ma avete appena vinto Sarese un ordine del re Ah in quel caso si spiegherebbe tutto allora Tentacolino Sono contrario alla violenza Eh muchacha Ma se hai promosso di grado un giocattolo scozzese perché ha fatto saltare in aria un tizio Io non ci sto a capire più niente di come ragionere in se sto qui Intanto sulla terraferma sta per compiersi una tragedia annunciata Promettere in se il sequel di questo film o no? No allora Devono dimostrare che l'elisir funziona Ma ricordiamo quella è solo acqua Corretto Così prendono un topo anziano Gli danno una goccia di elisir Lo legano a due mattoni e lo gettano in fondo a un pozzo Per loro il sorcio dovrebbe respirare sott'acqua ma come hai detto nella brocca C'è solo acqua Esatto Pronti per l'esecuzione? Non credo siano contenuti adatti a un prodotto per bambini E' un po' come si Mi raccomando è il primo compito importante che ci lasciano da un po' di tempo a questa parte Tranquillo con noi il rilancio dei teletubbies sarà un successo enorme Hai già qualche idea? Ho passato tutta la notte a scrivere episodi e guarda qui Vediamo Twinkie Winkie ma in overdose Ed è solo il pilota La roulette russa, l'ala si prostituisce, ma cos'è sta roba? Senti i giovani fans dello show saranno ormai cresciuti no? Ma almeno Splinter Almeno lo salvano Rimane un momento traumatico per i più giovani Che imperdonabile sequenza Ma insomma andate commettendo un errore? Io sono il vostro capo, il vostro signore, il vostro imperatore E spero che lo gettino in acqua Non lo sapremo mai, c'è un taglio Un taglio cinematografico, cretino Beh, lui sott'acqua respivava, quindi poco male Sì, ma passare anni legati in fondo a un pozzo non è il massimo, sai com'è? Abbiamo deciso di darvi un premio Perché con il vostro valore avete smascherato i ribelli La libertà sarebbe sufficiente Anche qui v'è un buco di sceneggiatura Se a nessuno è permesso lasciare Atlantide Perché hanno concesso ai topi di andarsene? Perché il re è un demente, va bene? Tentacolino, sua maestà vi ha mandato per aiutarti a trasportare il Titanic all'isola dimenticata Oh, vi esumano il Titanic? Così pare, con tutti i preziosi dentro Che una volta riapparsi sulla terraferma verranno riconsegnati ai rispettivi proprietari Quindi ai protagonisti non vi aveva dato nulla? Tecnicamente no Che fregadura Ecco, questo è il premio che vi avevo promesso Quest'isola sarà la vostra nuova casa Ma sua maestà, credo che gli idioti abbiano degli affetti sulla terraferma Parenti, amici, lavoro, cose così Sì, credo ce l'abbiano già una casa Avrai di che vivere Certo, dovrai cacciare, costruirti tutto da solo Fare chilometri per prendere acqua pulita Ma è tutto tuo Grazie vostra maestà, ma potrei anche andarmene? Assolutamente no, in quel caso ti daremo la caccia e ti faremo esplodere E il Titanic perché me l'avete lasciato? Così per fare un po' l'ambiente Però mi raccomando, tienilo sempre così Devo occuparmi da solo pure della manutenzione di un transatlantico Grazie di tutto Nella sezione più bassa del Titanic Il re ha predisposto un piano nel quale possono incontrare gli Atlantidei Con tutto il rispetto, ma chi se ne frega? Li conoscono da un paio di giorni, a dir tanto C'è di più In questa zona il re ha piazzato anche una sorta di schermo magico Che ti consente di vedere cosa accade in qualunque punto del mondo Tipo TG No, no Pensi a qualcuno o a qualcosa E puoi spiarlo in diretta e indisturbato Interessante Sono antenato del porno Sarebbe un utilizzo sprecato Viste le infinite possibilità, non credi? Come internet Non ha tutti i torti Hanno messo i topi ribelli in un manicomio Sarese un topicomio, scemottono Per quanto apprezzi l'iniziativa Le condizioni igieniche e le regole di detenzione sono orribili Per quanto apprezzi l'iniziativa Non erano dei malati di mente Erano dei criminali E questa cosa li ha fatti impazzire davvero Ciocchezze erano comunque matti a loro modo In ogni caso, un destino terribile Lasciami Ma stiamo ancora guardando un film per bambini? Ah, sarese per bambini Topanzano che molesto un'infermiera Ma chi ha scritto sta roba? Perché i riflettori su sti due non hanno fatto niente? Niente Forse sarese più meglio così A me mi facessero le feste quando io non facessi niente Hanno fatto tutto il cane, i topi, gli atlantidei e il piovrone gigante Beh, l'uomo ha comunque conversato con diplomazia con il re Cose che potevano fare anche gli altri Finisce così? Che volevi un sequel? Per carità no Bene Tentacolino Che dire Un prodotto molto, molto confuso Da una parte dovrebbe essere, beh, per bambini Ma dall'altra ci sono diverse cosettine sfuggite al controllo Lo so, siamo cresciuti tutti con materiale che includeva tematiche quali, non so, il lutto, la vendetta Ma qui il discorso è leggermente diverso Tentacolino non è per ragazzini È proprio per bambini E cose come il manicomio, le molestie, il bombardamento ai danni della gente dentro i barili È un po' troppo È roba capace di scioccare anche un adulto visto quanto stona con tutto il resto La qualità dei disegni e delle animazioni è discutibile Il film è del 2004, ci tengo a ricordarlo L'anno di uscita degli Incredibili, di Polar Express, del Castello Errante di Owl, dei di Shrek 2 Prodotti, ehm, avanti anni luce rispetto a questa porcheria Nonostante l'alto livello dei doppiatori coinvolti, nemmeno le battute si salvano I dialoghi fanno pena Non ce n'è uno, a fine visione, che rimanga impresso nella memoria Senza contare che è difficile sincronizzarli con l'abbiale per via delle animazioni sciatte e pigre I personaggi sono terribili e privi di carisma Spaziano tra il dimenticabile e l'odioso, come lo stramaredetto pesce a molla L'unico che credo ricorderò è il soldato scozzese con la parrucca Per il resto, buh Il cane non fa che lagnarsi, i topi frignano di continuo I due umani protagonisti sono essenzialmente il nulla Scusate, forse definirli protagonisti è troppo Insomma, appaiono poco, non fanno niente E beh, alla fine vengono comunque premiati Vabbè Anche il Titanic si limita a comparire negli ultimi istanti E francamente nemmeno capisco il perché Tanto il re ha deciso di spostare tutti i protagonisti su un'isola deserta Cioè, poteva lasciarlo anche negli abissi Tentacolino, che dà il nome al film, appare sporadicamente per qualche gag E quando lo fa è un gigantesco Vabbè Ci sono meccanismi poco chiari Reazioni emotive assurde Come se la sceneggiatura l'avesse scritta un marziano Benvenuti ad Atlantide Che non lascerete mai più per tutta la vostra esistenza Oh, capiamo il vostro punto di vista Va bene così Ma scherziamo E il piano del re è inutilmente caotico Ricco di passaggi privi di senso È una pagliacciata anarchica Oh, che cattivo e indimenticabile che è il barone, vero? Si è sicuramente dato molto da fare E poi, perché è cattivo? Solo perché fa squadra con gli squali? Cioè, al barone interessa il Titanic Agli Atlantidei non gliene frega nulla del Titanic Ai protagonisti non sarebbe più il Titanic Visto che andranno a vivere sull'isola deserta Date al barone quello che vuole Ai topi ribelli potevano riservare un destino meno crudele Cioè, anche esterminarli sarebbe stato caritatevole al confronto In tutto il film ci sono due brani Quello cantato da denti di ghiaccio sulla sua cattiveria Abbastanza blando e dimenticabile E quell'incubo incredibile performato dal pesce a molla Le percussioni sono martellate, letteralmente E tutto il resto pure Martellate non vi dico dove Tentacolino è un film da tenere lontano dalla portata dei bambini Se volete loro bene Passategli dei prodotti decisamente più meritevoli Meno noiosi Ma teneteli alla larga da tentacolino Anzi, sapete che vi dico? Anche il padrino andrebbe bene Chi se ne sei il pargolo a sei anni Almeno guarda qualcosa di bello Penso di aver dedicato abbastanza tempo a questa porcheria Faggio? E per le donazioni mirate in descrizione Grazie Orbene può far baffo Alla prossima Per le donazioni mirate in descrizione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti